Le sfide di Reddell & Partner si chiamano eccellenza e ora anche innovazione. Leggiamo e interpretiamo i cambiamenti culturali del mondo dell'impresa e adeguiamo costantemente le nostre conoscenze e il nostro business model di fronte ai nuovi scenari. Ci teniamo stretto al nostro DNA professionale, ma siamo sempre più consapevoli della necessità di integrare le nostre competenze con quelle degli altri settori strategici, in particolare quello tecnologico, con lo spirito pioneristico che da sempre ci contraddistingue. Dalla nostra esperienza nasce il Dipartimento Legal Tech per fornire servizi e prodotti innovativi, frutto di un dialogo costante con le imprese. Il nostro team ha progettato software e soluzioni in grado di migliorare la gestione dei dati e dei processi aziendali. Tra questi c'è Russell, una technology challenge ambiziosa che potrà davvero innovare il metodo della ricerca e dello sviluppo industriale. Youscatto è una startup innovativa di recente costituzione. Abbiamo raccolto con entusiasmo la sfida del progetto Russell, sicuri di poter contribuire allo sviluppo di un'applicazione innovativa a servizio dell'attività di ricerca e sviluppo di studi professionali e aziende con specifica applicazione alle ricerche di anteriorità nell'ambito prebettuale. Siamo un team altamente qualificato, siamo professionisti e docenti universitari forti di competenze interdisciplinari nel settore legale, ingegneristico e tecnologico. La soluzione integrata che abbiamo progettato trova eventuali corrispondenze tra prodotti già realizzati e brevettati e i progetti in corso di validazione inseriti nel sistema attraverso testi scritti in linguaggio naturale ed elaborati grafici. Il software ideato utilizza tecniche di NLP, applica algoritmi di comprensione testuale che si compongono di processi di analisi lessicale, grammaticale, sintatica e semantica. L'acquisizione degli elaborati grafici e delle immagini consentirà l'applicazione di algoritmi di object recognition sviluppati per fornire descrizioni caratteristiche degli oggetti. L'innovazione è il cuore dell'attività di un dipartimento di ricerca e sviluppo e l'obiettivo delle imprese oggi è individuare progetti all'avanguardia. Russell non è solo un motore di ricerca, ma è un'intelligenza artificiale in grado di mappare lo stato della tecnica in un settore industriale mettendo in luce così il carattere innovativo di un progetto e verificando i presupposti per la tutela giuridica della futura invenzione. L'innovazione passa attraverso una fase di Envision e la scelta delle migliori tecnologie per dare forma all'idea di successo. Redland Partner e USCAPTO rappresentano un binomio vincente per le sfide di domani.